Adesso ci accingiamo all'ultimo brano che comunque vedrà ancora quel voto Davide Cutrona. Io richiamo Filippo Gioeli della Sicily Music Academy, che insieme al suo maestro di violoncello ci faranno sentire Follia, un brano di Mare. Com'è questo brano? Bellissimo. È più bello di quello di prima? Naturalmente. Io poco fa ho fatto una battuta con i tuoi braccialetti, ho visto quelli tolti tutti, sono spariti. Come mai? Sembrava il caso forse. Hai tenuto solo uno, magari un portafortuna. Sì. Va bene Filippo, allora raggiungi sul palco Davide così avrai il tempo di accordare il tuo violoncello per quello che è l'ultimo brano che ci faranno sentire i ragazzi di questa accademia. Poi penso che i docenti ci riserveranno un ultimo brano loro che sarà Adele con Rolling in the Deep, un brano che penso voi tutti conoscete molto bene. Ma adesso è il turno di Filippo Giovelli che chiuderà le esibizioni di musica degli alunni con il suo Follia di Mare accompagnato dal docente Davide Cutrona, nonché direttore della Sicily Music Academy. Ultimi accorgimenti tecnici. Grazie mille. Grazie mille. Grazie. 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 Grazie.